Ecco arriva l'elicottero Pronti Fabio Pronti per l'ascesa a moto Operazione Croce Eccolo che sta arrivando Mitico Chiaki Gerrata Chiaki Chiaki Seminat Poi Spare 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 Raffa la sua parte. Questa è la parte. A moto! Qua c'è la croce! Poi dico il pellegrino. Non possiamo fare di qua. Qua è un piozzo. Qua è? Qua è un piozzo. Come vai! Da dove è venita la Verzasca? Va a fare un buon giorno. ...Giuii! 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 Viavamo la nostra cruce Grazie ragazzi Grazie ragazzi Grazie ragazzi Grazie